Oggi storie sconosciute di un mare quasi scomparso, un nostro caro amico che, ahimè, è il decimo anno che viene qui a Camogli, non se ne è perso uno e neanche noi ci siamo mai persi nessun suo intervento. Si riflette tante volte su che tipo di messaggi si possano lasciare oggi, no? Questo è il festival ideale per trattarlo. Insomma, io ero affezionato molto alle lettere, perché le lettere, differentemente rispetto alle mail, hanno qualche cosa che quelle mail non ti possono dare. Cioè, hanno diverse cose. In realtà hanno il sapore, hanno il profumo, l'hanno toccata, sono state magari copie riviste e riscritte. Ci hanno messo tempo per essere scritte, riscritte e spedite. La mail, una volta che l'hai mandata, e quante volte sarebbe stato meglio non mandarla? Quindi, in qualche modo, quelle lettere lì rappresentavano un momento in cui, ecco, io mi ricordo che mi arrivavano quelle di mio padre, addirittura due volte al giorno una posta veniva consegnata. Che messaggio ci mandano e con che lettera gli antichi abitanti del Mediterraneo? Un po' questo è il principio del libro, ma anche di una riflessione più generale. Cioè, a dire, quando non c'erano i sapiens, come comunicavano questi altri viventi? Lo facevano in una maniera che potesse essere trasmessa? Oppure, invece, quello che lasciavano non era scritto e dunque era difficile da interpretare? E' uno sforzo che vale la pena di fare, perché se noi vogliamo avere delle informazioni su come era fatto questo mare, su cui insistiamo, però al tempo in cui i sapiens non c'erano e non c'era magari nemmeno il genere uomo, beh, ci dobbiamo affidare ad altri viventi che ci hanno raccontato le loro storie e le hanno lasciate scritte, non in una lettera e nemmeno in una mail, ma nelle rocce. Dunque, chi legge le rocce legge il messaggio di antichi viventi. Per quello che riguarda il Mediterraneo ce ne sono diversi, forse più significativo è il messaggio che ci viene dai suoi abitanti più antichi. Bisogna pensare che il Mediterraneo come identificazione è recente, non è un mare antico, è il residuo, però mascherato, di un vecchio oceano che separava le terre dell'Africa da quelle dell'Europa e dell'Asia. Quest'oceano si era insinuato come un golfo quando le terre erano tutte riunite insieme in quella che si chiamava Pangea. L'ha spaccata in due, l'ha divisa e si è messa, nel senso dei paralleli, a dividere appunto queste terre qui. Il Mediterraneo si trova nello stesso posto, in realtà poi sul posto potremmo discutere di più, ma insomma si trova nella stessa posizione di mare mesogeo, molto più giovane, addirittura al suo interno ha un oceano che si sta formando, che è il mare Tirreno. Dunque, la situazione è per certi versi uguale, ma anche molto diversa da quella che registriamo oggi. Ma come facciamo a sapere quello che gli è successo al Mediterraneo prima? Ecco, se partiamo da quel vecchio oceano mesogeo che si chiamava Tetide, come la madre di Achille, a quel punto possiamo registrare questi messaggi e questi messaggi sono i messaggi degli abitanti più antichi del Mediterraneo, che sono i pesci, i tonni in particolare, che sono i cetacei, che sono anche quegli animali che si aggiravano attorno al Mediterraneo, ma che hanno potuto annusarlo un po' meglio quando è successo un cataclisma terrificante che adesso vi racconto e si sono avventurati per delle piane che non potevano essere percorse prima e sono soprattutto proboscidati, elefanti e scimmie. Tutto questo avveniva molto prima che arrivassero gli uomini, uomo e peraltro ancora prima dei sapiens. Che messaggio però ci hanno lasciato? Ci dicono che quella terra lì era soggetta a molti cambiamenti, tanto che a un certo punto si sono dovuti allontanare dal Mediterraneo quelli che sono riusciti, mentre gli altri che sono rimasti dentro hanno dovuto provare a sopravvivere in condizioni estreme. Perché il Mediterraneo a un certo punto, quasi sei milioni di anni fa, si era chiuso. Si era chiusa la comunicazione con lo stretto di Gibraltar. Il mare evaporava perché faceva molto più caldo, il clima era diverso, e dunque rimanevano delle grandi pozze, salmastre, più o meno profonde, al cui interno non è che si sopravvivesse bene. Chi ha potuto è emigrato. Qualcuno è riuscito ad evolversi, ma ci ha messo un po' di tempo, gli altri sono periti. Questa crisi del Mediterraneo, che si chiama crisi di salinità, così la chiamano i geologi, è registrata anche in altre rocce. Nelle rocce di sale di certi posti, per esempio la Sicilia, ce n'ha particolarmente belle, a Real Monte, grandi cave sotterranee in cui ci sono grossissimi spessori di sale. Questo sale si formava in quel Mediterraneo che si stava seccando. Le rocce e i fossili ci raccontano questa storia. Perché è importante questa storia oggi? Perché quei cambiamenti lì sono avvenuti in tempi molto lunghi. Di quel mare mesogeo tetide non rimane più niente, salvo una sottile striscia di rocce che percorre tutte le catene montuose intorno al Mediterraneo. Queste rocce verdi sono il pavimento di quell'antico oceano, oggi diventato montagna. Dunque sconvolgimenti epocali, che avvenivano però in un tempo lungo. Sia dal punto di vista geologico, e lì il tempo lungo lo sappiamo per forza, che ci vuole, i geologi inventano il tempo profondo, senza il quale non ci sarebbe nemmeno la relatività, non ci sarebbe nemmeno una prospettiva temporale corretta, se non sapessi che la Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni, che sono una cifra difficile da immaginare. Ma avvengono anche sulla pellicola superficiale del nostro pianeta e anche in atmosfera. E infatti oggi lo sentiamo spesso. Farà più caldo? O è un caldo normale, visto che la Terra ha subito tanti cambiamenti? La vera differenza, e questi messaggi del Mediterraneo ce lo raccontano, è che quei cambiamenti erano lenti, spesso disomogenei, e recuperati con lentezza. La vera differenza è che al tempo qualsiasi vivente era in equilibrio con quei cambiamenti. Faccio un esempio sciocco. Quando pensiamo agli eccessi di anidride carbonica, pensiamo, piantiamo più alberi, perché questo ha un significato nell'assorbirla. Questo è vero. Alcuni ricercatori hanno calcolato quanti ce ne vogliono e quanti ettari ci vorrebbero, e hanno visto che un certo numero di alberi, ma qui parliamo di migliaia di miliardi, possono essere messi a dimora e possono succhiare anidride carbonica, ma ci vuole un po' per far ricrescere, per averli attivi decenni. Ma un albero solo mi pare che porta via qualcosa come 25-26 chili di anidride carbonica. Una balena a 33 tonnellate. Se noi fossimo stati più bravi nel conservare le balene, oggi è stata riaperta la caccia alle balene in Islanda, che è una cosa che non si capisce quale senso possa avere, avremmo anche avuto magazzini di stoccaggio dell'anidride carbonica migliori delle foreste. Perché la balena non soltanto immagazzina nella sua carcassa al momento della morte l'anidride carbonica, ma con il fatto che mangia questo krill e poi naturalmente emette delle deiezioni, dà nutrimento alla massa del plankton vegetale, il fitoplancton, che è quello che immagazzina l'anidride carbonica. E in più, muovendosi sotto e sopra, rimuove, in questo upwelling gigantesco, le acque e contribuisce a immagazzinare ancora l'anidride carbonica. Dunque sarebbe più importante tenere e incrementare le balene più ancora che le foreste. ma dicevo perché sono importanti quei messaggi rispetto ad oggi? Perché quello che vediamo oggi è qualcosa di molto rapido che non riusciamo a spiegare soltanto con i cicli naturali. Il clima sulla Terra cambia per tanti motivi, ma diciamo cinque sono quelli principali. Uno è molto chiaro è quanto è caldo il sole. Dunque un sole più caldo fa l'atmosfera più calda, eccetera. Poi l'altro è che naturalmente le correnti oceani che lo cambiano localmente così come lo cambiano le disposizioni dei continenti. Tutti i continenti insieme vuol dire che lì fa più fresco dove c'è tutta acqua e più caldo e poi anche ci sono le irregolarità nell'orbita del pianeta Terra. Quelle cambiano il clima. Le glaciazioni per esempio sono state determinate da questo. Ma questi quattro parametri hanno tempi lunghi. Le variazioni, diciamo le irregolarità dell'orbita decine di migliaia di anni. le correnti migliaia di anni. I continenti milioni di anni. Il sole può essere più rapido ma oggi per fortuna lo misuriamo. E pensa che nelle misure di sole che si fanno oggi della radianza solare indirettamente attraverso le macchie solari quello che si vede è che tanto caldo non è. Anzi è anche piuttosto freschino. Cioè a dire che se noi prendessimo tutti questi elementi naturali e li mettessimo in un grafico vicino alle misure delle temperature registrate in mare e in aria non li troveremo accoppiati. Cioè non troveremo questi elementi naturali crescere e di conseguenza crescere la temperatura. Quello che si vede è che questi elementi naturali sono quasi piatti sul diagramma. La temperatura cresce in maniera esponenziale. Dunque non sono questi elementi che generano il cambiamento climatico di oggi. È qualche altra cosa che è registrata nelle rocce perché noi possiamo tornare indietro nel tempo e misurare alcuni parametri per esempio l'ossigeno e i suoi isotopi per esempio i pollini e vedere come erano i climi del passato. Quello che vediamo è che lo sconvolgimento di oggi è epocale rapido accelerato riguarda tutto il pianeta atmosfera e oceani e non dipende solo da quegli elementi lì che sono sempre attivi ma che però non funzionano oggi. Dunque la lettura del Mediterraneo si fa anche con tante altre cose poi chi vuole prendere il libro o qualcosa li trova è una lettura che ci consente di guardare lo scenario futuro. Chi è che studia il clima? I fisici dell'atmosfera naturalmente prima di tutto ma in secondo luogo ci sono i geologi perché studiano i climi del passato e in base a quelli si ricostruiscono modelli per il futuro. Quando vediamo che i modelli già utilizzati da una trentina d'anni si avverano clamorosamente e anzi qualche volta erano sottostimati la risposta che ci diamo alla domanda vabbè ma il clima ha sempre cambiato è sì ma non come questa volta questa volta è diverso. Come facevano quegli animali lì? L'ho detto prima o migravano chi riusciva perivano parecchi se non addirittura si estinguevano come specie oppure si evolvevano. La risposta a quei cambiamenti ma erano soprattutto i cambiamenti territoriali la dava proprio in certi casi degli animali terrestri la taglia corporea. sapete che nelle isole del Mediterraneo sono stati ritrovati fossili tanti animali di specie nane al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Roma c'è un piccolo di elefante nano quindi un cucciolo di elefante nano che è alto come un gatto con le sue zannette una cosa piccola perché? e questi cambiamenti si registravano a livello di generazione dunque molto rapidi perché quando finisci in un'isola per qualche ragione le risorse sono minori gli animali di taglia più grande faticano quelli che casualmente hanno una taglia più piccola prosperano si riproducono e tutta la fauna piano piano diventa più piccola nana sono scoperte che facevano anche i nostri antenati per esempio lì nelle caverne che sono le pendici orientali dell'Etna venivano ritrovati dagli antichi magno-greci dei teschi di questi elefanti ora erano piuttosto erano piccoli ma ce ne erano anche di più grandi solo che erano impressionati dal fatto che vedevano questo teschio con un buco qua e non vedevano gli occhi perché gli occhi essendo posti lateralmente si disfacevano più facilmente dunque è lì che nasce la leggenda del ciclope un essere che ha dove alloggiava la proboscite e invece l'orbita oculare secondo chi li ritrovava al tempo queste specie nane che ci sono a Creta a Cipro in Sardegna in Sicilia in Sardegna ancora oggi c'è un cervo di taglia nana sono appunto una risposta di quelle popolazioni che non si sono estinte non sono migrate ma si sono evolute come faremo noi di fronte a una crisi climatica così rapida ad adattarci come faranno gli altri viventi questo è il messaggio che ci lasciano queste tracce cioè a dire se non c'è tempo è molto difficile adattarsi nonostante noi abbiamo una grande differenza rispetto agli altri viventi e cioè un apparato tecnologico extracorporeo francamente non confrontabile no? se si pensa qual è la differenza fra i sapiens e gli altri viventi ora non vorrei qui c'è chi ne sappia di me ma insomma uno lo identifica in tante cose può essere la tecnologia ne possiamo parlare può essere il modo di comunicare può essere l'uso degli strumenti le mani no? tutte cose che nascono dalla nostra evoluzione ma forse non sono nemmeno tutte queste cose qui che ci fanno che ci dettano la differenza perché quello che vediamo studiando queste antiche testimonianze soprattutto nel Mediterraneo ma altrove è che tutti i viventi in qualche modo hanno obbedito a una legge generale di armonia con il mondo naturale mentre noi sembriamo farle saltare queste leggi l'unica specie di viventi che manda l'aria agli altri ecosistemi senza che questo sia possibile da recuperare in più su queste cose discutiamo molto di questo ne parlerò domani ma non accendo lo facciamo perché quello che succede è che incredibilmente di fronte a tanta produzione da parte degli scienziati di dati e di teorie oggi acclarate perché ci sono 20 30 40 anni di studi c'è sempre quello che si alza e che ti dice ma scusa il clima è cambiato come nel passato vedrai che non dipende da noi dipenderà appunto dal sole dai raggi cosmici e da altre cose di questo genere qua qui però si inserisce una caratteristica tipica nostra che è quella di di non dare troppo retta a quello che ci accusa perché è brutto sentirsi dire guarda il clima sta cambiando ma è colpa delle tue attività e chi vuole sentirselo dire pensa che è senso di colpa vorrebbe dire che posso pure farci qualcosa ma questo non ci piace sentirselo dire noi critichiamo molto questi ragazzi e non solo ragazzi di ultima generazione perché non so sporcano la fontana della barcaccia a Roma quella fontana fu scolpita da Bernini nel travertino in ricordo delle barche fluviali del Tevere ci hanno buttato dentro questo liquido nero che era organico e è andato via in poco tempo lì l'intervento non c'è stato proprio non si è dovuto fare niente dunque nessuna spesa nessun danno e tutti indignati per questa cosa senza andare a vedere nel dettaglio quel travertino lì che nelle sue plaghe aperte nelle sue crepe ospita millimetri di fuligine nera che abbiamo pure nei polmoni di quello non ci frega niente ma di questi che buttano il liquido nero da fontana sì francamente è un po' ipocrita non vedo che cosa altro potevamo fare non è il mio metodo di diciamo di battaglia ambientale però capisco nel senso questi sono fanno un'azione eclatante non è la mia però voglio cercare di vedere che cosa c'è alla base cioè qual è il loro la loro preoccupazione che cos'è che li spinge ad agire così dice racconta nei suoi ricordi Ghete che quando era ragazzino i genitori stavano per rimproverarlo perché aveva rotto un servizio ateo o qualcosa del genere c'erano però degli amici in casa che dissero ai genitori vabbè ma adesso voi lo volete picchiare per questo agite solo sull'effetto vediamo qual è la causa per cui si è mosso così e non lo toccarono è un po' quello che forse dovremmo fare va bene vediamo questa cosa che ci fastidia ma perché però fanno così e perché sono preoccupati adesso si è inventato termine eco-ansiosi vabbè fa un po' ridere ma insomma la questione è proprio che di fronte all'evidenza degli scienziati che sono univo che lo dico francamente lo tratterò però meglio domani c'è ancora qualcuno che spinge perché invece non si faccia qualcosa perché queste evidenze non sarebbero sicure perché non ci sarebbero abbastanza dati e tante tante cose allora che cosa abbiamo trovato girando ma non io tanti ricercatori hanno trovato discorsi di presidenti americani a risalire dal 1965 per esempio Lyndon Johnson che aveva sostituito John Kennedy che dice gli umani testuale stanno facendo un esperimento geofisico senza avere idea di dove questo potrà portare Carter nel 77 scrive che il cambiamento climatico è determinato dalle attività estrattive di combustione stiamo parlando di tanti anni fa era già palese quello che succede a un certo punto e lo accenno qui è che il cosiddetto negazionismo scientifico su queste tematiche si articola a partire da due personaggi che vivevano negli Stati Uniti erano due scienziati della guerra fredda si chiamavano Frederick Seitz e Fred Singer questi due erano due coinvolti nel progetto nucleare statunitense che a un certo punto fieramente anticomunisti che si trovano a un certo punto senza più un ruolo preciso ne avevano di importanti e senza più un nemico perché il comunismo piano piano dopo la guerra fredda andava sostanzialmente allontanandosi vengono reclutati indovina un po' dalle compagnie del tabacco le grandi major del tabacco statunitense perché nel 1953 quindi pensa quanto tempo fa esce il primo articolo scientifico serio in cui si testimonia la relazione fra il fumo la nicotina il catrame la carta e il cancro ai polmoni esperimenti sui topolini che venivano spalmati di questa roba e sviluppavano dei cancri micidiali avevano tagliato la testa al toro 1953 questi due scienziati vengono reclutati dalle compagnie del tabacco con documenti che oggi sono pubblici e liberi ricevono centinaia di milioni di dollari in particolare una dotazione di 54 milioni tutti insieme nel 74 non per finanziare studi contro quei risultati lì loro non gli interessava la verità scientifica gli interessava alzare una cortina fumogena che dicesse si può darsi che il fumo ma allora quello che mangi e allora l'automobile che porti cioè spostare l'attenzione lo hanno fatto con dei report con interviste ai giornali perché hanno convinto i giornalisti che dovevano ascoltare tutte le campane come se su un fenomeno fisico dovessi ascoltare anche una testimonianza non scientifica che senso avrebbe nessuno e perché con quei denari hanno propalato una controinformazione che ha alzato appunto questa cortina fumogena al punto che il primo processo che vede condannate le major del tabacco per il fumo pensa che poi è arrivato anche il fumo passivo con gli studi certificati degli anni 70 è del 1996 hanno guadagnato 40 anni di profitti questo è il motivo del negazionismo dico che questo domani lo spiegherò meglio perché questo stesso metodo dagli stessi due è stato applicato alle piogge acide al DDT alla riferazione dello stato di ozono e al cambiamento climatico fino a che non sono morti sono morti prima del 2000 ma l'hanno sempre messo in campo e il motivo era uno solo rallentare ogni forma di regolamentazione al libero mercato rallentare ogni forma di regolamentazione al sistema capitalistico il nemico non era più il comunismo era l'ambientalismo sono loro che inventano l'espressione i verdi come il cocomero verdi fuori e rossi dentro nasce tutto lì da questi due signori ora poi nei vari paesi si è articolata differentemente la questione da noi prende anche altre vie ma insomma il negazionismo è figlio di il negazionismo climatico si intende è figlio di questa roba qui non c'è una verità alternativa da propagandare perché non c'è non ci sono altri dati non ci sono c'è soltanto rallentare il processo di regolamentazione non riuscendo a capire o capendo molto bene che il libero mercato stesso gran parte del problema dunque non può essere parte della soluzione il caso della lasciazione dello strato di ozono lo insegna bene lì riesci a bandire i cfc solo con un accordo coatto se no non esci fuori non si metteranno mai d'accordo nei congressi internazionali e nelle conferenze delle parti se non ci sarà un accordo obbligato l'ultimo accordo importante quello di Parigi è su base volontaria chi vuole partecipa e non c'è un organismo che controlla quindi tu che sei Italia quanto diminuisci? 20% chi lo guarda? non si sa e questa roba non può funzionare oltre al fatto naturalmente che non può funzionare quando tu ti metti spesso si dice l'Europa inquina solo il 7% che cosa ti vuoi mettere a fare qualcosa sì ma dovremmo guardare la curva accumulata di anidride carbonica e di gas serra se la prendi dal 1750 ricostruita in varie misure si vede che il continente europeo in blocco ha contribuito per il 39% cioè più di tutti gli altri siccome l'anidride carbonica persiste in atmosfera qualche decennio sfiorando il secolo quella roba lì l'abbiamo emessa prima non sono stato io se l'ha stato mio padre mio nonno il mio bisnonno ma sempre noi siamo tu con questo portato di inquinato di due secoli vai da questi che si sviluppano oggi gli dici scusate ma perché vi sviluppate così male fatelo come diciamo noi quelli dicono scusa ma amore mio o ci date o ridistribuite ricchezza e ci date tecnologia oppure è inutile che vuoi convincerli a diminuire le emissioni come se tu avessi 5 fette di torta e lui una gli dici vabbè leviamocene una per uno considera che un indiano un indiano singolo perché poi certo la massa è forte ma un indiano emette due tonnellate di nitrite carbonica all'anno un italiano 7 come un cinese uno statunitense 16 ma chi è che deve rinegoziare lo stile di vita quello che rinegozia che non c'ha niente praticamente per non parlare degli africani che stanno sotto una mezza tonnellata c'è poco da ridurre lì ci sarebbe da rivedere queste cose ecco tornando al Mediterraneo poi per chiudere questa la cosa che che ci interessa nella lettura di questi antichi cicli è vedere quanto fossero ciclici e questo l'abbiamo studiato si è visto che da 7 milioni di anni quella crisi di salinità molto calda è stata poi seguita da 5 glaciazioni 5 interglaciazioni che sono finite circa 10.000 anni fa e che sono interamente dovute alle irregolarità dell'orbita terrestre secondo dei cicli che uno scienziato serbo Milankovic ha studiato molto bene e si è visto che tutto il resto oggi essendo attivo cioè tutti i parametri del cambiamento climatici attivi e lo vediamo registrandoli c'è qualche cosa che fa saltare l'accelerazione di questa crisi climatica e quel qualcosa sono solo e soltanto le nostre emissioni queste emissioni dipendono dal fatto che bruciamo dei combustibili fossili che quell'antidride carbonica la tenevano imprigionata sotto terra fino a che tu non li tiri fuori e li bruci perché qualcuno ti dice ma come i cicli naturali certo i cicli naturali funzionano ma tu stai mettendo in quei cicli naturali qualcosa che era sottratto ai cicli riposava sotto terra se tu lo tiri fuori e lo bruci lo addizioni a un sistema all'equilibrio basta molto poco per spostarlo molto poco qui parliamo di milioni di tonnellate ma ne bastano pochissimi tutta questa storia per dire che poi quando si analizza il passato troviamo delle risposte per disegnare uno scenario futuro ma l'ultima considerazione è sul motivo per cui noi siamo così differenti rispetto agli altri viventi questo ci tengo sempre a sottolineare non rivolta perché è un po' no? c'ha tante risposte ci sono i primatologi che studiano l'intelligenza degli scimpanzai entro i tre anni come Tetsuro Matsuzawa che fa vedere quanto è svelto di testa uno scimpanzè in quell'età lì quanto è molto più svelto di quanto possa essere un umano c'è chi studia l'intelligenza degli elefanti la loro capacità di commuoversi e di festeggiare i nuominati o di piangere i morti c'è chi studia l'intelligenza degli uccelli sai l'uccello giardiniere che prepara quel giardino straordinario per la femmina inventandosi colori mettendo cose la invita ad entrare nel viaretto gli fa vedere tutto e lei valuta se per caso quello sforzo creativo perché di sforzo creativo si tratta è sufficiente a fargli ipotizzare un patrimonio genetico importante col quale mescolare i suoi è quello che valuta magari se ne va sdagnata è quello sta lì con quella cosa che ha fatto non sa più come fare quante analogie troviamo nelle vicissitudini degli animali secondo un grande etologo olandese non siamo così intelligenti da comprendere l'intelligenza degli altri viventi e quello è quello che vediamo quando ci confrontiamo con i parametri classici noi parliamo del cervello e non è solo lì l'intelligenza è una caratteristica della vita non è necessariamente confinata lì se qualcuno pensa ai tanti esperimenti che si fanno con le piante rimane stupefatto da quello che riescono a combinare del resto un essere vivente che sta fermo in un posto fisso e sopravvive guarda che deve avere la bravo strategia che noi che le nostre fanno ridere e non si può muovere eppure resiste e ricresce l'anno dopo oppure i virus beh pure i virus sono pezzettini di RNA ma che cosa uno dice ma come li possiamo qualcuno pensa che i virus non siano nemmeno viventi pensa un po' viventi solo quando si incistano nella cellula e prima che sono è questa nostra questo nostro incredibile senso di superiorità dire che noi siamo al vertice di una piramide che non esiste dove è la piramide della vita e che ci sono i microrganismi poi gli insetti e poi ci saranno i pesci gli anfibi i rettili ma uccelli mammiferi uomo ma pensa un po' tendeva proprio a questo è una cosa meravigliosa se ci pensi è una cosa che naturalmente lascia di sasso ma dicevo quando analizzi queste differenze e vedi che l'intelligenza è così diffusa pensavo al virus pensa a SARS-CoV-2 che rispetto a SARS-CoV-1 che aveva fatto qualche focolaio pandemico ma poca roba riesce invece a mettere a chiudere in casa 8 miliardi di sapiens perché invece di infettare col colpo di dosso e con lo sternuto ti infetta col respiro che tu non lo sai che sei malato perché quando tossici ti allontani quello no non hai nulla eppure lo stai infettando e non è una strategia intelligente i virus sono straordinari i decifratori di codici come dicono tanti ricercatori cioè sono in grado indirettamente attraverso la quantità spaventosa di mutazioni che hanno di essere adatti tant'è vero che sono su questo pianeta da 3 miliardi 800 milioni di anni e non sono cambiati affatto hanno scritto la storia l'hanno fatta loro ci sarebbe da inchinarsi a questi esempi di intelligenza e noi invece siamo contenti della nostra che diciamo ha un motivo secondo me di fondo più importante che è l'ultimo la vera differenza che c'è è che nessun vivente accumula nessuno non si è mai visto un elefante che cattura 6 gazzelle una porta a zia l'altra vende al mercato una da nonno noi non la conosciamo questa cosa in natura noi sì ci può essere le formiche che accumulano un po' va bene c'è la ghiandaia che mette un po' più di tutto a posto ma nessuno pensa ai nipoti dei nipoti dei nipoti intestandogli dei futures o cose di questo non lo fa nessuno questo lo facciamo solo noi è stata una molla incredibile probabilmente di sviluppo anche cerebrale ma presenta tutti i suoi nodi al pettine tutti insieme perché se in tutto il pianeta 8 miliardi di sapiens accumulano ma il pianeta è limitato e finito per definizione qualcuno resta senza e qualcuno ha troppo dunque la crisi ambientale di oggi ha un riflesso sociale importante per una ragione fisica importante che non esiste un capitale economico se non esiste un capitale naturale salvaguardato non c'è un'economia sana se non c'è una biosfera sana tutto questo noi dovremmo in realtà ricordarlo perché se ci troviamo in certe condizioni e la crisi ambientale ci fa vedere bene anche la crisi economica è l'una cosa che porta all'altra forse dovremmo lavorare su quella ambientale per recuperare anche un'economia che invece così non si riesce a recuperare schiavi dell'accumulo non ci siamo accorti di essere passati dal tempo di Robinson Crusoe che come sapete in quell'isola deserta scadena il panico perché non c'è nessuno deserta per definizione ma lui si chiude dentro la caverna più grande erige mura si trova un barilotto di orzo coltiva sei acri di orzo e solo che cosa ci fa con tutto quell'orzo eppure lo coltiva tutto perché è appena l'unico altro essere umano che vede venerdì di colore con la scusa di liberarlo lo schiavizza perché questo fa quella è l'epopea del grande capitale non ci siamo accorti che siamo arrivati invece ad altri naufraghi come quelli come quello interpretato da Tom Hanks in un film che si chiama Castaway che pure lui naufragato usa i rifiuti come materie prime e seconde perché lui naufraga con un aereo in realtà che si schianta che c'aveva i pacchi del DHL e dentro trova un sacco di cose che sarebbero diventate merce inutile no perché su un'isola deserta i pattini da ghiaccio però lui con quei pattini ci si specchia ci si leva un ascesso con i lacci ci si chiude un mille bolle attorno alle ferite che si è procurato cercando di pescare il pallone Wilson da pallavolo lo raffigura dandogli una faccia per poter avere qualcuno con cui parlare e infine quando cerca di andare via mette insieme una zattera con i tronchi da lui tagliati ma tenuti insieme con le liane contate nel senso che pur avendo tutta un'isola a disposizione mette le liane e poi il resto lo fa con i VHS di cui erano rimaste dei brani cioè a dire che conta le risorse e usa le materie prime come materie prime seconde cioè ha imparato che non può più agire come abbiamo agito noi e va via con questa zattera che si solleva e vince la marea lungo la barriera corallina grazie a un bagno chimico che era naufragato sull'isola stessa che lui usa come vela per poter prendere il largo ecco in questa comprensione di essere cambiato in tre secoli e mezzo il ruolo fondamentalmente l'accumulo ci ha sempre guidato ora però è il momento della ridistribuzione perché altrimenti continueremo a dividere i sapiens in sapiens di serie A e sapiens di serie B e la storia dei viventi ci dice che questo non è mai accaduto buona serata grande Mario come sempre